8 luglio 2019 mare leggermente mosso stamattina piovuto era tutto nuvoloso poi piano piano si è aperta la giornata ma nella baia è possibile fare il bagno se si accede al mare dalla spiaggia io invece sono in attesa di porzioni della pasta asciutta allo scoglio un saluto ciao 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 ciao